Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Arat che vi parla. Siamo qui con la mega analisi gigantesca in cui vedremo tutto quanto il trailer gameplay per la mappa Terminus di Black Ops 6, un'analisi veramente specifica direttamente tutto quanto quello che si vede, e poi in aggiunta per completezza veramente totale c'è anche un blog con tutte quante le informazioni e appunto magari alcuni dubbi che si potevano avere soltanto col trailer, sono tutti quanti ovviamente sistemati da questo blog che ci fornisce praticamente ogni singola informazione possibile e immaginabile, quindi partiremo appunto dal trailer, tutto quanto era poi corretto e aggiornato per quanto riguarda funzionamento di meccaniche o anche opinioni personali con questo blog, quindi verrà una cosa veramente molto molto lunghetta, partiamo fin da subito appunto con il trailer che vi faccio vedere adesso a schermo. Che cosa state aspettando? È ora di andare. Andatevene via di lì! Abbiamo tanta carne morta da macinare. Non l'è non l'è a che cosa che buce Sogn' la quantità tutti qui ci Guten ù leerei Cosa stessa Stato R.T. è finita. 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 forte ovviamente va valutato quanto è forte davvero per quanto riguarda fare i round alti e vedremo poi magari in futuro dato che purtroppo nel blog non è specificato se per dire c'è un limite di salute agli zombie quanto si muovono in fretta quanto danno fanno e tante altre cose che appunto vanno tutte quante considerate quando qualcuno vuole fare un round veramente molto alto adesso stupidamente sto pensando anche al sistema dei rounds come cold war che hanno molti meno zombie rispetto al passato se magari per dire c'è un round limite che sia 2,55 9,35 mille mila miliardi tutto quanto è possibile ci viene poi mostrato il nuovo distributore del perk mili macchiato che è molto molto carino perché ha tutti quanti i guantoni da pugile e per dire uccide anche i zombie che si trovano davanti un pochino come anche il distributore del mule kick su mawerder toden che quando veniva comprato sparava in giro e uccideva gli zombie vediamo comunque il funzionamento del perk che se forte potrebbe essere comunque molto interessante considerando che comunque su black op 6 esattamente come cold war non c'è il limite dei perk quindi possiamo comprare tutto quanto vediamo poi un supporto aereo che spara dappertutto personaggi che scivono col phd slider e provvediamo mai a utilizzare questo oggetto che penso essere il nuovo potenziamento da campo che appunto spara questo raggio laser dark eater che uccide gli zombie che sembra molto forte e anche parecchio figo vediamo poi un elicottero probabilmente dell'estrazione anche se è strano che tutti quanti gli zombie salgono sopra l'elicottero non so se magari questo in realtà è il filmato di finished rag con tutti quanti che scappano definitivamente so se magari avremo un'estrazione leggermente diversa in cui gli zombie cercano magari di distruggere l'elicottero e dobbiamo ucciderli tutti quanti per scappare in sicurezza senza che lo distruggano e magari ci bloccano l'estrazione vediamo poi finalmente i nuovi nemici speciali che sono letteralmente da incubo perché sono degli specie di ragni con una testa di zombie sulla nuca è una cosa che chi l'ha inventata è veramente un matto e se ricordo forse hanno detto che ci sarà un filtro arachnofobia perché sono veramente veramente orrendi è una cosa devastante vediamo anche un altro boss nuovo probabilmente quello elicottero amalgam che appunto si può essere diversi zombie tutti incastrati con tante braccia tante gambe tante teste di zombie anche questo è veramente un incubo però comunque sembra essere molto molto figo e tanti nemici speciali in questa mappa considerando per dire anche i laceranti già presenti e appunto questi nemici ragni i pipistrellini parassiti di shadows of evil di black ops 3 e questo amalgam veniamo poi proprio in aggiunta questo tentacolo gigante non mi è chiaro se appunto sarà una specie di boss di questa mappa finisseregg o qualcosa di un pochino più specifico che semplicemente si trova nella mappa e può essere danneggiato o ucciso per avere delle ricompense finisce qui tutto quanto ma ci sono ancora un paio di secondi non collegati a terminus bensì a liberty falls oltre ovviamente al preorder nel senso dateci i soldi adesso se volete queste ricompense per mv3 e warzone tra quella mimetica reflect 115 e alcuni oggetti di acquisizione i pochi secondi che vediamo invece di liberty falls sono i seguenti vediamo la cittadina riconosciamo subito che è liberty falls dalla polizia e altra cosa strana ci sono alcuni carri armati un pochino strani con la scritta progetto janus questo sicuramente è molto interessante anche perché se ricordo correttamente liberty falls e terminus avvengono nello stesso momento perché c'è uno squarcio etereo in entrambe le location e oltre questi carri armati c'è anche una specie di rover al centro di questa piazza che non capisco benissimo cosa potrebbe essere e in più costa veramente poco la benzina liberty falls mi trasferisco subito zombie permettendo in aggiunta a qualche frame di jet gun che se la fanno come la custom map di black ops 3 via evictis dove potenziabile è molto forte e non si spacca ogni volta che la riscaldiamo potrebbe essere finalmente un'ottima wonder weapon che oggettivamente in realtà anche su black ops 2 lo è ma il funzionamento secondo me è un pochino strano non sicuramente il massimo in aggiunta vediamo poi una specie di portale dark eater e questo pack a punch che si trova a testa in giù in questa specie di chiesa distrutta ancora una volta a capovolta tutto il setting sicuramente è molto bello ma davvero poco per quanto riguarda inizialmente questa mappa che viene invece mostrata il 28 agosto al call of duty next con un suo gameplay quindi sicuramente aspettiamo quella live che probabilmente sarà sia su twitch che su youtube dal canale di call of duty per mostrarci appunto il gameplay bene ragazzi già ci sono tante cose di cui voglio dare opinioni ma ci fermiamo un attimo qui per quanto riguarda il trailer perché saltiamo invece al blog il video è ancora molto molto lungo questo appunto è il blog di call of duty per quanto riguarda black ops 6 con la bomba di informazioni in cui è spiegato ragazzi letteralmente tutto quanto cercherò diciamo di leggere il più possibile per fornire più informazioni ma alcune piccole cose tipo come funzionano i punti e i materiali ci passerò molto velocemente questo blog sembra essere un pochino un riassunto di tutto quello che vedremo su black ops 6 sia per quelli che sono i nuovi giocatori che non sanno assolutamente nulla e mancava giusto la scritta se uccidi tutti gli zombie passa il round che sarebbe stato totalmente folle ma anche per tutti quanti quelli che sono i veterani che stanno tornando su black ops 6 e rivolgono alla classica esperienza round anche perché appunto stanno milantando e pubblicizzando veramente tanto questo ritorno delle mappe around come se fosse la seconda venuta del messia che in parte ci sta però un pochino tutti quanti volevamo zombie around perché è comunque lo zombie più classico e diciamo che le esperienze recenti come mv3 zombie e in parte vanguard sicuramente non ci hanno accontentato partiamo comunque con questo blog altrimenti stiamo qua tre giorni per quanto riguarda tutto il preludio ci rimostrano ancora una volta questo trailer che abbiamo appena analizzato ovviamente il fatto che in seguito ci saranno alcuni piccoli spoiler per quanto riguarda zombie però penso che chiunque sia qui vuole avere più informazioni possibile c'è veramente tutta quanta la spiegazione per quanto riguarda la location di Terminus inizialmente una location totalmente abbandonata in questo mare delle Filippine poi recuperata dalla CIA per utilizzarla come sistema di detenzione per Requiem e appunto durante il progetto Janus nell'86 e Kitofen ci ha ficcato dentro Weaver, Carver, Grey e Strauss praticamente a questo punto anche Raptor 1 per lasciarli lì essere totalmente torturati e noi giocheremo questa mappa il 25 di ottobre a lancio di Black Ops 6 assieme anche a Liberty Falls che appunto è leggermente descritta come questa città della West Virginia in cui c'è stato un altro epicentro per questo portale del Dark Eater e quindi un altro caos di zombie di cui appunto vedremo i risultati e di conseguenza il gameplay il 28 di agosto per quanto riguarda l'introduzione al gameplay delle mappe Around che penso chiunque più o meno lo sappia comunque c'è la spiegazione di come funzionano i punti e i materiali e piccole cose da sottolineare è che le armature di livello 2 e 3 si ottengono con i punti mentre livellare le armi di rarità richiede materiali esattamente come era su Cold War ma qua invece al contrario di Cold War e come era su Vanguard ci sono soltanto i materiali normali e non ci sono quelli rari quindi probabilmente per alcuni oggetti che sia magari potenziare la rarità delle armi o altre cose alla postazione di lavoro come le killstrick oggetti detali e tattici forse sono un pochino più costosi o magari gli zombie dropperanno meno materiali per quanto riguarda invece la main quest quindi gli easter egg tutto è strutturato secondo me abbastanza bene ci viene detto infatti che come era stato liccato ci saranno due versioni una standard una invece guidata ma fortunatamente questa versione guidata arriverà in un secondo momento in modo che tutta quanta la easter egg hunt classica che si fa al lancio delle mappe e dei loro easter egg rimarrà totalmente invariata e anzi i player che completeranno questi easter egg prima della versione guidata riceveranno delle ricompense aggiuntive c'è a dire che teoricamente il dubbio potrebbe essere il seguente se è disponibile nella versione guidata di questo easter egg con se ricordo un limite di 15 round potrebbe essere teoricamente comunque un easter egg abbastanza semplice o comunque completabile in fretta quindi anche inizialmente quando dobbiamo scoprirlo potrebbe magari non richiedere troppo tempo o essere come quelli di cold war che non erano magari ultra mega facili e ultra guidati ma sicuramente realizzabili molto in fretta da un team preparato non ai livelli sicuramente di black ops 3 o black ops 4 che ogni tanto hanno richiesto delle easter egg hunt anche di più di una settimana ci ovviamente ritorno dell'estrazione per questo black ops 6 come su cold war e vanguard quindi possiamo concludere il game probabilmente ogni 5 round facendo questa estrazione per scappare via o possiamo continuare all'infinito fino alla nostra morte ci viene ricordato ovviamente del fatto che c'è l'omni movement anche su zombie e questo può aiutarci veramente tanto per quanto riguarda gestire gli zombie e scappare o magari per certe manovre che possono facilitarci per distruggere tutti quanti i non morti in aggiunta c'è tutta quanta la spiegazione dell'hud e ci viene anche mostrata un pochino com'è c'è anche una versione a quanto pare legacy per questa hud versione simile al black ops 3 in cui per dire i perk il sistema del round sono posizionati correttamente ed è totalmente assente la minimappa ciò non è che posso dire che questa hud come inizio non è che sia bellissima ci hanno detto che è pesantemente customizzabile quindi tutto quanto può essere personalizzato come vogliamo a mio parere tante cose vanno totalmente rimosse o rimpicciolite perché accumulano troppo dello schermo come era per cold war io toglierò le barre di salute e il danno agli zombie perché è totalmente insopportabile e sicuramente occupa troppo spazio la minimappa sicuramente può essere un attimo rimpicciolita e tutta la scritta a sinistra per le emote e gli spray va totalmente rimossa il resto circa ci strade molto simile a cold war ma sicuramente come nei code recenti non la caudi più bella e semplice in assoluto andando avanti passiamo un'altra pecca secondo me molto grossa perché non è specificata al 100% per quanto riguarda questo zombie e le partite private e in singolo viene specificato che mi sembra folle vada scritto ma ok che c'è il matchmaking tra virgolette privato quindi possiamo invitare i nostri amici qualcuno fa da host e facciamo le nostre lobby e a questo punto dato che viene spiegata la pausa e il poter salvare le partite in singolo che viene confermato ho dei dubbi per quanto riguarda la pausa stessa sia in singolo che in co-op ce ne è infatti detto che possiamo mettere in pausa in singolo ma dopo una certa quantità di tempo limitata finita il gioco toglierà la nostra pausa salverà il game e uscirà al menu probabilmente per non occupare i server la cosa in sé circa ci sta perché possiamo continuare a salvare queste partite e tornare loro ci dicono ovviamente se non siamo a terra non stiamo per morire o cose del genere però comunque magari in una transizione tra un round e l'altro possiamo mettere in pausa salvare e tornare nel nostro game in un secondo momento come sempre server permettendo ma da come viene scritto non mi sembra che ci sia la pausa in co-op che mi fa veramente strano perché continuo a pensare che black house 4 ma specialmente cold war hanno la pausa in co-op e su cold war fin dal lancio in zombie e addirittura anche in dead ops arcade col fatto che etnicamente c'è una specie di matchmaking lo chiamano loro privato con un host lì forse si potrebbe fare magari che si può mettere in pausa ma per quanto riguarda la singolo la pausa è presente ma dopo un po' ci viene un pochino rimossa e ci viene salvato il game in automatico il che bisogna vedere quanto è stabile e quanto è funzionante ma sicuramente una meccanica totalmente nuova e rivoluzionaria per quanto riguarda zombie di cui comunque sono curioso finché non ci conferivano al 100% che possiamo mettere in pausa anche in co-op dove qualcuno è host su questo appunto ho un dubbio speriamo in bene finché non ci mostrano il gioco non possiamo saperlo con certezza ci viene poi parlato di quelli che sono appunto gli augments questi miglioramenti per perk mod munizioni e potenziamenti da campo che sono un pochino simili a come erano su cold war i potenziamenti con tier 3 e in seguito 5 ma in maniera molto minore infatti per come ho spiegato ognuno di questi oggetti perk mod munizioni e potenziamenti da campo hanno in tutto 6 di questi augments 3 minori e 3 maggiori ma possiamo mettere soltanto uno minore e uno maggiore per ognuno di questi oggetti appunto quelli minori sono un piccolo potenziamento limitato che però comunque ci può aiutare quello maggiore invece potrebbe totalmente cambiare il funzionamento di questo oggetto rendendolo ovviamente più potente o comunque appunto differente questo ci permette appunto di continuare a giocare e sbloccare questi cambiamenti potenziamenti loro la chiamano direttamente ricerca di oggetti per appunto avere le nostre build personalizzabili e giocare in maniere totalmente diverse sicuramente interessante e un pochino più vario per quanto riguarda il gameplay posendo invece ai loadout e al creare una classe abbiamo tutta quanto il sistema di armeria ogni singola arma ha le sue sfide le sue statistiche le sue mimetiche e tutto quanto il gioco terrà conto di tutte le nostre uccisioni e tutto quello che sblocchiamo che è sicuramente il massimo dobbiamo ovviamente armi primari e secondari e corpo a corpo i nostri pugni e tutto quanto può essere acquistato a muro e la cassa può essere potenziato bisogna fare un pochino quello che vogliamo e addirittura ci sono i progetti quello che chiamano build system come era su cold war quindi tenerci i nostri progetti per accessori mimetiche o anche tutti quanti portafortuna e la personalizzazione ovviamente ritornano i potenziamenti da campo tra cui schermatura etere guardia frenetica aura curativa a mino energia e questo nuovo visto appunto nel trailer che si chiama dark flare e per fare un esempio dei potenziamenti di questo dark flare con gli augments per dire quello minore che gli zombie colpiti da questo raggio vengono rallentati mentre quello maggiore questo raggio diventa una specie di sfera che attraversa gli zombie li danneggia e dopo un po' esplode alla fine della sua durata e a quanto pare questi ovviamente possono essere cambiati in partita ma non scambiati con i compagni c'è anche tutto un sistema di crafting table postazione da lavoro progetti tattici letali e di supporto che ovviamente per quanto riguarda granate tattiche e letali possiamo portarcele dietro a inizio partita ma se vogliamo cambiarle con appunto i materiali possiamo craftare e costruire quello che ci interessa e alla fine gli oggetti sono praticamente identici a quelli già visti su cold war con giusto qualche piccola aggiunta per delle granate e ritornano per dire ovviamente esche scimmie e casimir come ho visto prima dagli oggetti di supporto c'è questa specie di iniezione mutante per diventare un lacerante ma ci sono anche le autoranimazioni che vedremo dopo sono limitate RHXD Toretta Robot e se diceva se ricordo Dailik dovrebbe esserci anche il supporto aereo e forse tipo l'attacco al napalm per quanto riguarda le Gable GAM come sempre abbiamo i nostri pacchetti personalizzati in cui mettere 5 di queste GAM e il funzionamento è un pochino diverso ovviamente ci sono tutte quante le rarità per quanto riguarda queste GAM quindi rare epiche leggendarie ultra e whimsical che sono quelle un pochino più comiche giusto per dare gli effetti agli zombie magari quando muoiono o qualche skin particolare alcuni esempi di GAM per quelle rare è Shields Up in cui la nostra armatura è il doppio più forte per 3 minuti o Killjoy che ci spawna un instant kill per quanto riguarda quelle epiche c'è Free Fire che possono sparare in maniera illimitata senza spendere munizioni per 60 secondi o Soda Fountain che ritorna da Black Ops 3 dove ogni perk comprato ci dà un altro perk casuale per quelle leggendarie Fenice di Black Ops 3 che rianima tutti i compagni con tutti i loro perk o Wall to Wall Clearance dove tutti gli oggetti a muro costano 10 punti per quelle ultra torno ovviamente specializzato il perk Aolic che ci dà appunto tutti i perk e come visto dal trailer quella Wundaba che è l'arma successiva che compriamo dalla cassa è sempre una Wonder Weapon oppure per quelle whimsical Newtonian Negation che se ricordo era già presente su Black Ops 3 dove gli zombie uccisi volano al cielo per ben 3 minuti il funzionamento della GAM è un po' particolare perché non la mangiamo subito ma insomma possiamo mettercene 3 nell'inventario e decidere noi quando mangiarle è poi uscito un video aggiuntivo con delle informazioni di Codney in Pizza che ha detto appunto che queste GAM che sono 3 in tutto che ci tenono da parte possiamo anche prenderne più di una e possiamo tenercela da parte utilizzandole quando vogliamo e finché appunto non vengono totalmente usate da noi non vengono appunto consumate e possono essere ottenute in partita non ha specificato al 100% se si possono ottenere soltanto in partita così ci sono appunto delle meccaniche tra virgolette pay to win come già visto su Black Ops 3 e Black Ops 4 ha detto semplicemente che ogni paio di round ci viene fornita una GAM totalmente casuale che appunto va nella nostra rotazione e queste GAM possiamo continuare ad accumularle per usarle poi in partita possiamo addirittura anche cambiare i pacchetti GAM in partita se per caso fosse sempre così e non ci fosse nessuna meccanica per acquistare le console di veri sarebbe forse una delle migliori introduzioni di GAM da sempre per quanto riguarda zombie sono appunto curioso e ha detto che ne giungeranno anche nel supporto post lancio per quanto riguarda Black Ops 6 si spera non faccia la fine di Black Ops 3 con delle GAM totalmente rottissime come un potere assoluto fine immediata un passo dalla morte perché quelle cambierebbero veramente troppo il gioco andiamo avanti con tutti quanti i perk tornano ovviamente il revive il jug la stamina elemental pop deadshot speedcola phd e il nuovo mini macchiato evoluzionalmente dei perk sono totalmente identici e quelli di Cold War vi siete giocato quel gioco sicuramente li sapete tutti quanti con l'appunto di mini macchiato che abbiamo visto il distributore è il fatto che il nostro corpo a corpo viene sostituito con questa specie di pugno molto portente che spara via i nemici anche qua c'è un esempio per quanto riguarda i miglioramenti quello minore per dire quello che il corpo a corpo ci ricarica in parte l'arma mentre quello maggiore ogni attacco corpo a corpo ci ridà 25 di salute come potete vedere alcuni di questi potenziamenti potrebbero essere veramente molto potenti specialmente se sommati per tutti quanti i perk un pochino per com'era su Cold War anche se in versione minore discorso simile per quanto riguarda le mod munizioni che andranno acquistate con i materiali in questo macchinario che si chiama The Arsenal e qui appunto ci sono tutte quante queste mod munizioni già viste su Cold War ma viene rimosso scoppio dirompente per questo Shadow Rift ancora una volta esempio di miglioramento per dire quello minore gli zombie cadono su altri zombie mentre quello maggiore gli zombie che cadono esplodono una volta che toccano il terreno come visto dal trailer c'è l'induttore di furia che però sembra essere efficace soltanto per i primi 20 round un pochino come era su Cold War appena introdotto si spera venga aggiunto fino al round 55 come poi viene aggiornato perché è la cosa più efficace e dopo il 55 appunto gli zombie di loro sono così veloci quindi avrebbe perfettamente senso perché vuole fare round veramente alti molto in fretta cioè ovviamente tutto quanto il ground loot ovvero gli zombie una volta uccisi ci possono droppare degli oggetti che siano i materiali che siano le piastre appunto per l'armatura o altri oggetti molto stupidi per cui granate tattica granate letali oggetti di supporto o mod munizioni di solito da nemici speciali ci sono ovviamente le casse di munizione per comprare i colpi che costano dei punti chissà se di più di Cold War dove il costo era sicuramente molto molto basso è disponibile poi la tactical raft che è questa barchetta per muoversi in giro per la mappa e costa dei punti sembra teoricamente essere totalmente guidabile da noi giocatori e non con dei percorsi già preimpostati saremo comunque a vedere perché potrebbe essere interessante questa libertà di movement chissà se si può tuffare in acqua in queste zone gigantesche anche se lo ritengo totalmente improbabile in aggiunta come già liccato ritornano i trials quindi le sfide di Cold War con le loro ricompense che si spera siano ottime come in Cold War torna ovviamente i power up quindi i stakill dopo i punti max ammo nuke punti bonus full power e massima armatura e sparisce totalmente il carpentiere che a questo punto non serve più e non so neanche se ci siano le barriere in questa mappa ritorna ovviamente anche la meccanica di danno elementale qui appunto certi elementi magari sono più efficaci con certi zombie speciali come l'altra era già presente anche su Cold War se ricorderete bene alcuni oggetti come scoppio dirompente era più efficace sul Panzer o tipo cavo inerte contro i Megaton c'è la rarità delle armi fino al leggendario quindi non comune raro epico e leggendario per potenzione le armi servono appunto i materiali come era su Cold War ci sono ovviamente le armi a muro che costano dei punti e i diversi livelli di armatura 2 e 3 che sono sempre a muro e costano appunto dei punti e non materiali come su Cold War è disponibile la cassa che costa punti e ci può dare una Wonder Weapon un'arma normale un oggetto di supporto esattamente come in Cold War e che una volta esattamente come in Cold War il Pack-a-Punch che stavolta non avrà una schermata bensì automatico perché appunto le mod munizioni hanno un altro macchinario a parte questa Wonder Weapon vista nel trailer è il Beam Smasher che appunto ha due diversi spari un normale che uccide tutti quanti gli zombie che abbiamo davanti un altro invece che li stordisce e li rallenta e riceveranno poi più danno e oltre a quest'arma dopo un po' si sovraccarica quindi ricaricando farà una piccola esplosione a me ricorda vagamente un pochino la Reiki o come ho detto prima anche l'attacco base siamo un attimo una delle versioni della Cerberus di Mower Der Toten e si spera che questa arma sia molto molto forte per quanto riguarda diverse tipologie di nemici ci sono gli zombie standard anche se sono divisi in shamblers a due piedi e zombie che a mio parere sono sempre zombie ma non importa ovviamente nemici corazzati e pesanti con tutta quanta l'armatura e poi nemici speciali questi ragni che si chiamano Vermin i Parasites già visti su Shadows of Evil e Revelations che infatti sono sia gialli e rossi come queste vecchie due mappe ovviamente il Lacerante che ormai è un appuntamento classico per questi ultimi zombie e questa Amalgam che è veramente un incubo da vedere alcuni piccoli cambiamenti per quanto riguarda i round alti hanno detto che appunto le altre animazioni che si possono comprare al tavolo da lavoro sono un massimo di tre quindi dopo tre altre animazioni non possiamo comprarne altre come invece su Cold War si potevano comprare all'infinito questo sicuramente rende i round alti un pochino più complicati ma un pochino più classici rispetto ai vecchi zombie dove in singolo avevamo il Quick Revive soltanto tre volte e poi spariva Wunderfits permettendo e a quanto parla anche gli zombie round alti dovrebbero essere molto veloci e aggressivi motivo per cui l'omni movement dovrebbe essere molto molto importante si parla anche di tutti quanti gli orrori e le trappole che ci sono su Terminus come la trappola tentacolo visto prima o il cannone ad etere che appunto sembrerebbe essere molto forti e magari per certe strategie potrebbero essere molto molto efficaci questo tentacolo invece che appunto si vede in giro e c'era anche nel trailer a quanto pare dovrebbe soltanto sputare fuori i parasites i parassiti però chissà che potrebbe essere parte dell'easter egg per boss fight o simili l'ultimissimo step per quanto riguarda questo blog è aspettare il Call of Duty Next per vedere qualcosina di Liberty Falls e ovviamente preordinate il gioco dateci i soldi quindi ragazzi queste erano tutte quante le informazioni possibili e immaginabili per quanto riguarda Black Ops 6 compreso trailer e blog mi sta anche un pochino morendo la voce ciò non toglie che tante cose che vedo sono molto simili a Cold War di questo in parte ne sono contento ma sono sicuro che invece altre persone che speravano in qualcosa di molto più classico magari non è che siano proprio entusiasmate al 100% come sempre aspettiamo di vedere il reveal ancora più completo di Liberty Falls il 28 agosto e poi in seguito di giocare la beta e il gioco stesso il 25 di ottobre ciò non toglie che a parte qualche piccolo dubbio che ho per HUD o pausa il resto circa mi convince anche gameplay che hanno mostrato per quanto mancasse l'HUD e fosse di qualità comunque un pochino vaga per quanto riguardava la skill del player che stava giocando ciò non toglie che ci hanno mostrato veramente tante ma tante cose e continuo a pensare che questa bomba di leak che è uscita in questi giorni abbia praticamente costretto Activision e Treyarch a anticipare un pochino tutto quanto il reveal anche perché è stata una botta dopo l'altra e in tutto questo mi sa che aspetteremo il 28 agosto e fino ad allora ci hanno dato letteralmente tutte le informazioni possibili quindi penso che ci fermeremo qui c'è un toglie che è stato un reveal sicuramente a bomba e mi spero che la community sia comunque abbastanza contenta o comunque le aspettative che abbiamo messo potrebbero essere accontentate come se voglio sapere le vostre opinioni perché c'è veramente tanta carne sul fuoco ciò non toglie che questa attesa sta finalmente finendo e sono molto curioso e spero anche ottimista per quanto riguarda questo Black Ops 6 ci sono tante mappe perché due a lancio non le vedevamo da veramente tanto tempo e si spera che tutto quanto il supporto successivo con le aggiunte sia quantitative che qualitative sia di un certo livello perché ce n'è sicuramente bisogno e che il gioco non venga abbandonato a se stesso sia questo ma anche tutti quanti i code zombie che ci saranno in futuro perché per dire se Black Ops 6 dovesse essere totalmente perfetto ma poi per diversi anni ritornano agli standard di prima che sicuramente non erano nel massimo non è che sia proprio il top perché comunque c'è bisogno che ogni volta che esce uno zombie sia fatto con criterio sia supportato con criterio e che anche se ci sono in mezzo delle grosse attese siano poi infine ripagate quindi finalmente il video si concorde qui spero come sempre che vi sia stato utile e vi sia piaciuto tutte quante le fonti quelli sono qui sotto in descrizione se volete ci sono anche i miei social tra cui Instagram Twitch e il canale Discord noi ci diamo come sempre al prossimo video un abbraccio ala